Filippo Barbacini grande Filippo Manili una pagina intera di risultati da... partita anche in questa settima serie è assente Stefania Pierotti in amborsia 2 e Alice Carpaneta da 6 M. Martina che sta smutando adesso in corsia 3 si è già qualificata per i giochi universitari che si svolgeranno in Cina l'orso di 200 nella stoffetta a 4% si è libero nella Lutina Cup di San Marino si conclude questa settimana serie andiamo a venire il risultato di San Marino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.